Bella a tutti da Borkmods, eccoci qua in questo nuovo face to face, questo face to face è stato creato da Kelvin Regà finalmente il suino gioca con i suini di PS4 barra PS5, andiamo Anche su Xbox devo ritornare, però ieri vi ho raccontato della nuova versione, io ero intenzionato Ah regà è face to face, spirale che meraviglia, ve l'avevo a finire che stavo dicendo Ero intenzionato a tornare su Xbox come si deve, appena usciva la nuova versione regà Però come sapete è stata rimandata a marzo, aiuto aiuto, che non vedo l'ora regà Non vedo l'ora di sapere come sarà, anche se il gioco è uguale, qualcosina deve cambiare eh Perché come vi ho già detto su PC è mille volte più piacevole Ok, oh poi qualche suino di PC ha detto che se vuole comprare la PS4 solo per trollare i suini di PS4 Oddio regà si arrivava fino a là Allora Ah poi qualcun altro ha detto se c'è... Non mi ricordo come si chiama quella cosa per giocare su tutte le piattaforme Ma non credo eh Forse da Xbox a PS5 sì Perché alla fine il gioco è lo stesso eh Calcolate che le gare di Xbox non possiamo giocarle sulla Play Questa cosa è stranissima, capisco quella di PC perché come sapete era successo che erano... Cioè che avevano passato delle attività moddate, allucinanti Però PS4 e Xbox oppure PS5 e Xbox serie SX sono uguali Cosa cambia regà? Cambia niente Pure la velocità è identica Qualcosina cambia ma di pochissimo eh Andiamo andiamo, belli veloci Poco bello Bella bemulino Ma guarda ma noi siamo primeri perché sui non lo trolliamo vero? Scusate scusate Basta che non si vendicano Ok io non l'ho fatto apposta Quanti c'è che sono? 6 su 23 Era tanto che non giocavamo per face to face Alexei U Io non... Oddio che a primozzo l'ho trollato come che si deve indicare Ha messo una guida per non cascare Tipo Waffi Waffi di go Che sta combina Oh no regà è pieno di autoramp No regà il citofono dove andrà per forza Aspettate Regà sono ancora a primere Non ci voglio crede eh Scusa King e Mace è spento il pad Ma a me mi hanno citofonato Regà sono ancora a primere Non ci voglio crede Stavolta dove apri per forza Sui Fammi recuperare sti secondini Che abbiamo pure 30 secondi di vantaggio Nonostante Ho aperto la porta No 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 regà Stavamo a perdere tutti i secondini Preziosi Allora Ancora primeri Ancora primeri Dai piccola Winky Sei un po' lentina Nelle miei rampe Vai bene però nei face to face Leggermente trollata Questa piccola Winky Setti che la situation Sembrerebbe buona Non c'è qualcuno Zitti 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 che Oh 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 Meno male che era invisibile Limousine regà Eh io sono abituato a guidare Quanto è piccola Questa limousine regà Ci vorrebbe quella limousine Che uso su pc Nella storia Ah regà Poi qualche suina Ha detto Del mod menu No quel mod menu È solo per la storia Non si può usare Online Allora È il classico Man U Regà Come si chiama Andiamo andiamo Belli veloci Belli rapidi Ok Fagaloa Sì Ah regà Mi ricordo Questa macchina Mi ricordo Un parkour Assurdo Regà Praticamente Avvio il parkour Se non mi sbaglio Era pure Di Cabricol Tutto il tempo primo X Lorenzo Midic Che laggava Regà All'improvviso Vedo a conclusione In prima posizione Come vedete A me mi segnava In prima posizione Che lag Assurdi Allora andiamo Andiamo Cadino Regà Cadino Bella di Di una gamer Allora Dai sui Bello veloce Bello Ma ce la fa Ah si si C'è il turbo Regà Chi è che si è Incastrato lì Ohia Questo piccolo Caddy Va che una meraviglia Se prendiamo Sto check Regà E' fatta Mamma Ok Box will Respondiamo Respondiamo Dai sui Bello veloce 5 minuti Di face to face Siamo a metà Face to face Si si Allora Ribeccheremo Di nuovo Il caddy Regà Bella Nicru Allora Ok Ok Siamo 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 Bello Bello Questo Face Mi gusta Ok Deve E' Per noi La macchina Che abbiamo Scelta All'inizio Credo Propri Di sì Dai Dai Bella Veloce Deve Bella Rapida Ok Oh Regà Pronto Il mio level Asian Mo Devo uscire In questi giorni Che l'ho finito Calcolate che è venuto fuori 120 Minuti Challenge Regà Io mi cederò Allo un botto Perché Ho messo Tutte parti Che odio Così almeno Imparo a farle Regà Sono parti Terribili Non vi spoilero Niente Ok Quello vedrete Tranquilli All Andiamo Andiamo Darà un po' Per noi Che sta Combina Sui Dai Perché sui Non lo trolliamo No Questo volcat Alex Si Mi dispiace Alex A te Te ci vuole Una trollatina No Regà Se sei vendita Questo è il karma Perché mi dovevo fare I fatti miei Vero Si Non c'è Respawn Di 50 anni Quindi Buono Oh Ma Cosa Regà Io non ho mai visto Un box wheel Che gira Peggio Nella formula Uno Alex Seu Se te Becco No Dai Regà Ma Disgrazio Perché Stai Disgrazio Ancora Primere Un minuto Di distacco Come vedi Se mi becca Ma io lo ributto Giù Alex Seu Ah Ci pensano Gli altri Magari Ti do Una mano Alex Non ha Respawn Allora Oh Finalmente Rimane Retrollati Con l'autorampo Raga È assurdo Con stile Prendiamo il check Ok Come si chiamava Questa Mangiolino Però Come si chiamava We will Come sa di si Il nome sta No Vabbè Meglio chiamarlo Mangiolino Raga Ok Andiamo Andiamo Oh C'è un po' Di gente Alex Se ho ancora Trollato Col cattimo Mi spiace Ok Polizia Vediamo un po' Se li ho letti Tutti I messaggi Poverini Perché ogni tanto Li salto Allora No Credo Credo che li ho letti Tutti Pure il cocco Bello De gabri Mozza Che mi ha trollato Altre miniature Raga Ce dobbiamo sparare Tanto Allora Il meteo Mi sa che C'ero terzo Io preferisco Il mezzogiorno Sereno Oh no Ma io guardo Avanti Mamma mia E te pare Maria Era la Alex Dai Avevo schivato Qua finito Non so come Dai Dai Che Ho sentito Una sirena Strana Questa 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 Guardate che sirena Raga Chi hai No 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 Zitti Zitti Non c'è nessuno Non c'è nessuno Oh sui che sta combina E fa tutto da solo Chi è quello Fermo Nico Non so Stai scrivendo Il messaggio Ah ecco Perché ha messo Non è È un anti cheat Guardate Se no si poteva Cittare la spirale Ora ho capito Bello La vicinente Favolosa No Di nuovo La winky No no Ti voglio bene Winky Non ti preoccupare Ma finico Oh 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 Chi era Cabrimoz Vabbè Voi via Me la richiesta Su io sono Piene Tutte piene Infatti Ho invitato La maggior parte Della gente Da Da l'incereo Regà Allora Facciamo attenzione Olle olle Oh è fermo Meno male Bella sui come va Tutto bene Tutto bene Bello primero Va da dio Allora Fa calò di nuovo Riga mancano un po' Chi cerca Alla fine Veramente pochi Ma solo io posso cascare Con un caddie Vabbè che è una piccola Fagalo 37 secondi Riamo Non è così tanto Di stacqua Dobbiamo fare Veramente Attenzione Ma cosa Sei Presidente Come si chiamava Suino Ce l'aveva con l'altro Ce sono andato di mezzo Io regà Che c'entravo io Non lo so Da fa calò Ma io ce l'avevo Modificata Caprimoz Quella spinta Mi gusta Non mi gusta più Caprimoz Non mi gusta più Sta spinta Ah ma qua mi sembra special Così Eh ma io non lo so Qua ci dovrebbe essere un boost Tipo Regà Una spintarella Una spinta Sui È il primero regà Vale No 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 Ok che scato Cori limousine Tre checkpoint No no Alex Alex Questione di primera Scusa Scusa Ok Andiamo Andiamo Che il primero sta qua dietro Allora Facciamo attenzione Oh Le regà Oh no Cori 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 No 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 Si 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 Ok Tutto ok Regà Sì Zitti Zitti Che ci va Bello Box wheel Per noi Allora Disattiviamo Rockstar E di torno Che ci siamo sparati Pure troppe miniature 2 check Regà 2 Allora Vale non molla Oh no Si 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 Tutto ok Tutto ok Tutto ok Dai regà che non c'è nessuno C'è nessuno Sì Frena 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 Box wheel No Si regà Voi non l'avete capito Allora Vedete laggiù Non segna il check Multiveicolo Segna il check Classico Quindi dobbiamo fare Avanti e indietro Solamente Quindi Regà Sta tonando No 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 regà Sta tonando Sta tonando In più Cerca di No regà In questi casi Meglio respawnare Vero Anche se partiamo Lontanissimi Ancora Primere Oh Va lì No regà Dai Non può Mettere Doppio Catti Doppio Catti No no regà Regà Zitti Zitti Sto porcatti Zitti 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 Non c'è nessuno Vero Ok Alex Ma tu prendi colpi Allora Quanti colpi Mi ha fatto prendere Andiamo Andiamo Allora Se tutto va bene Ah vedi Che stanno sempre A litigare Quei due Alex Alex Per favore Per favore Che qua Mamma mia Oh Oh No 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 Primerà Sì Primerà per noi Mamma mia Comunque sia Se vi è piaciuto Questo face Lasciate un bel Mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella Ciao